E' un vero e proprio caos la situazione dell'ospedale unico della Piana del Sele. Al momento pare tramontata la possibilità di questa struttura unica, il che ha fatto scattare l'ira funesta del sindaco di Eboli Mario Conte, intenzionato a non accettare tale paventata ipotesi. Lo scontro sta diventando molto strettamente politico, quasi una partita su un palcoscenico condiviso, che poi, tanto condiviso da parte degli attori, non vuole essere. Oggi era prevista una posa della prima pietra per l'impianto di compostaggio ad Eboli, a cui avrebbe dovuto partecipare il presidente Vincenzo De Luca e il primo cittadino, ma entrambi erano assenti. Presente è invece la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. Io credo sempre nell'ospedale unico. Ora fanno girare sui telefonini dei messaggi falsi. Noi ci siamo messi a disposizione, l'ho dichiarato più volte, per la riperimetrazione dell'area dell'ospedale a fianco, perché c'era un'area arancione dove dovevamo fare il modulo per permettere l'istrutturazione dell'ospedale. Siamo rimasti a quel livello. Poi anche io ho saputo dalla stampa di questa iniziativa, perché si parlava dei siti. Il sito per l'ospedale unico, Eboli aveva proposto tre siti. Uno è l'uscita dell'autostrada di Eboli, Acquarita, che voi sapete c'è il problema Acquarita, si chiama così, che mette il dito, c'è l'acqua, il terreno cede. L'altro era all'alto elettricilento, esplicemente vicino a San Nicola Varco, e l'altro era condiviso da noi. Noi condividevamo quel sito che è di fronte da De Caro, perché è territorio di Eboli, e quindi per me rimaneva valida questa proposta. Probabilmente la cosa che è stata fatta è che lì è stata alle 18, si ingolfa il traffico, lì è un terreno già della regione. Io sto dicendo quello che poi mi è stato spiegato, perché quando ho visto anch'io dal giornale che c'era questa richiesta di finanziamenti, cioè il modulo si farà perché noi avevamo il problema che si perdesse quei soldi, ho visto che ci sta anche una richiesta di finanziamento. Mi dicono che probabilmente mettere mano, si sono resi conto che mettere mano a ristrutturare un ospedale, tu sai oggi si ragiona così, noi abbiamo le scuole, le butti a terra e le ricostruisci, ti costa di meno, è certo e più sicuro. E quindi poi è un finanziamento chiesto a livello nazionale, poi bisogna vedere pure se glielo danno meno. Di fatto partirà il nostro modulo e partirà l'ala dell'ospedale di Eboli. Non se la deve prendere col sindaco di Battipaglia, assolutamente, perché io sono rimasta fedele a quanto abbiamo detto, non mi sono mossa, anche se so che magari c'è stato un tentativo di spostare vicino all'outlet, ma per me andava bene, ho detto fin quando, se è solo di fronte a De Caro, penso che la scelta può essere condivisa. Poi se le scelte sono state fatte altre non deve incominciare a ditare il sindaco di Battipaglia, deve lottare per la sua città.